Si svolgeranno dal 13 al 18 luglio i campionati europei under 19 femminili di seconda divisione della Palla a Mano presentati questa mattina in conferenza stampa a Chieti. Sette formazioni provenienti da tutta Europa si sfideranno presso il centro tecnico della Federazione Italiana Gioco Handball, la casa della Palla a Mano di Chieti, per contendersi il titolo europeo. Un momento molto importante per il comune di Chieti, come spiega Manuel Pantalone, assessore allo sport. Un grande evento sportivo, un altro grande evento sportivo, gli europei under 19 di Palla a Mano femminile presso la nostra struttura del Palla Santa Filomena, che come sapete è diventata centro tecnico federale e siamo molto soddisfatti sia di questo ma anche del fatto che adesso con le riaperture questa struttura sarà teatro di grandi eventi come quello che ci accogliamo a presentare. Terminerà il 18 di luglio, dal 13 al 18 luglio, ma è soprattutto la possibilità di dare ossigeno allo sport. Noi crediamo molto nel marketing sportivo e attraverso questi grandi eventi insieme alla Federazione Italiana di Palla a Mano, con la quale abbiamo avviato appunto questa importante sinergia, siamo convinti di veramente portare un evento importante per la nostra città, che saprà creare entusiasmo, che saprà ricreare quella conciliazione che lo sport sa portare anche dopo la vittoria degli europei e della nazionale di calcio. Insomma, la nostra città ospiterà un appuntamento dell'handball così importante. In campo, l'Italia padrona di casa affronterà Spagna, Serbia, Lituania, Turchia, Israele e Bulgaria. Al nostro microfono Pina Napoletano, consigliere federale e capodelegazione dell'Italia femminile. Oggi inizia questo europeo di categoria, è un torneo che verrà la partecipazione di sette squadre, si svilupperà in cinque giorni. È un momento molto molto importante perché ci affacciamo alla realtà europea ed è un momento in cui le nostre ragazze possono confrontarsi con squadre di importanza molto rilevante. Le ragazze sono qui in Radunacchieti già da due settimane, stanno lavorando bene, sono cariche e niente, non vado oltre per una questione di scaramanzia, speriamo bene. Palla Santa Filomena è praticamente la casa della palla a mano, nonché il centro tecnico federale, ormai è come la nostra seconda casa. Io stessa nelle ultime 3-4 settimane sono stata qui molto spesso. È un posto che ci ha accolto in un modo fantastico, ci troviamo benissimo. Colgo l'occasione per ringraziare il Comune di Chieti, per esserci vicino, per coordinare e aiutare nell'organizzazione di questo evento così importante per la nostra federazione. Siamo molto fiduciosi, speriamo bene, Forza Italia!